salve cari amiche cari amici salve ancora una volta dal vostro san ten chan qui mi sto registrando con la mia vecchia web camera del 99 e sto facendo un esperimento perché ho visto che c'è poco pubblico nel mio secondo canale di youtube radio san ten chan e perché ho dimenticato di rispondere ad alcune domande del nostro caro amico renzo montagnani everything che mi ha sollecitato delle domande e io non so se gli ho risposto però questa volta uso la vecchia web camera che voglio fare un video rapido con il programma p casa 3 allora ci troviamo a roma e sereno sono le 20 e 21 di sabato si sabato sto fuso non so perché ci sono dei giorni che io credo che sia sabato domenica si vede che questa è l'impressione che o no che sia o sabato o domenica non vorrei che mi sento interrompesse la registrazione per guardare a volte credo che sempre domenica invece no e martedì 31 ottobre del 2017 quindi buona halloween a tutti io non mi sono travestito da nulla non mi sono mascherato da nulla anzi cioè il look di san ten chan dicevo precipitazioni zero per cento umidità 69 per cento e si sente vento 5 chilometri orari 14 gradi centigradi 58 gradi fahrenheit e niente continua a registrare qua quindi si direbbe che l'aver interrotto o meglio la vera poi spero che si salvi da qualche parte questo video vediamo è tutta una prova è la prima volta che mi registro con picasa e la web camera perché come voi sapete che avete visto l'ultimo video nel mio canale di youtube radio senten chan youtube messo spesso i live perché avevo caricato un video fatto con un video di sorveglianza di vigilanza dove uccidevano una persona e mi ero scordato di mettere il limite di età tutto qui poi altri video li ho cancellato perché uno su una corrida perché non raggiungevano anche delle visioni come per rischiarsi che ti diano una seconda notificazione adesso come dire al titolo di questo video e già stiamo all'ottavo video rispondo alle domande di renzo montagnani everything di instagram il nostro caro amico allora che ne pensavo di dante alighieri io in generale sebbene lega molto non sono un grande appassionato di poesie a parte virgilio le bucoliche mi è molto piaciuto charles baudelaire in particolar modo i fiori del male come potrete guardare qua questa è un'edizione degli anni 80 della feltrinelli però in generale la poesia non è che abbia tutta la mia simpatia la incultura dello sballo si può fermarla con la cultura certo naturalmente comunque alla radice dello sballo c'è la necessità di sballare cioè di alcolizzarsi di uscire fuori di testa e che molte volte anche i genitori permettono che i figli perseguitino la cultura dello sballo perché lentamente si è andata corrompendo la società e dalla fine sballi un po sballi di più quello che sembrava un evasione ieri e la normalità di oggi quindi le le nuove generazioni di oggi sballano da morire infatti a volte muoiono di coma etilico ma i loro padri hanno sballato più dei loro nonni e i loro nonni hanno sballato più dei loro bisnonni quindi è una cosa che ci occorrerà tempo per correggere la società comunque sì credo che io non sono contro la cultura dello sballo ma sono contro il ricercare l'evasione attraverso la droga l'alcol addirittura i medicinali l'intossicazione io credo che per sballare veramente bisogna vedere bisogna vedere l'arte per esempio la sindrome da stand al è un'eccitazione che è venuto a stand al quando è venuto a ammirare il patrimonio artistico italiano non si è drogato ma ha visitato così tanti musei e monumenti che gli è quasi venuto un attacco di panico quindi meditare leggere libri praticare sport contemplare la natura ascoltare musica alle 5 meno un quarto del pomeriggio prendendo la merenda ascoltare musica classica leggere leggere poesie ecco sono tutte forme di uscire dal mondo come ci consiglia elemire zolla che io già in un'altra occasione vi ho fatto vedere dei suoi libri in altri video rispondendo alle domande di renzo montagnani everything quindi adesso non mi alzo neanche a prendere un libro di elemire zolla già ne parlerò poi in una serie di video pubblicherai un tu a sarà un tuo libro e vorrei io sin dai 12 anni caro renzo montagnani everything che vorrei pubblicare un libro e adesso sto scrivendo qualcosa perché ho visto che si può pubblicare on demand cioè tu metti a disposizione il testo di adesso non mi ricordo con chi però metti a disposizione il testo e non devi neanche pagare nulla come voglio e pretendono alcuni editori per correggerti il testo per pubblicarlo no e se c'è richiesta un demand tu vendi il libro tanto in brossura in carta come digitale quindi io spero di finire il libro che ho cominciato a scrivere e al più presto di pubblicarlo esiste anti morte l'altra volta ma io ti ho risposto in instagram se esisteva un medicinale contro la morte io ne avrei assunto purtroppo no so che l'imperatore giallo era così ossessionato la idea di dover morire che ai suoi alchimisti aveva incaricato un rimedio per non morire e invece lo mandarono prima la pazzia poi incontro alla morte perché questo rimedio fra gli altri elementi ci aveva il mercurio perché loro credevano che essendo incorrompibile il mercurio come l'oro e altri metalli davano le trasferivano le loro proprietà a chi assimilava un rimedio fatto col mercurio quindi invece è andato incontro alla pazzia perché assumeva piombo mercurio e altri elementi e poi è morto mi sembra i 35 45 anni molto giovani quindi no non bisogna preoccuparsi magari in un futuro più che un farmaco anti morte si allungherà l'aspettativa della vita la quinta domanda che tu mi fai caro renzo montagnani everything quale acconciatura sceglieresti tra scemus o brown sceamus o brown strowman fammi sapere a presto e mi pubblichi beh quella di sceamus però non come cela lui ma doppio taglio cioè riga doppio taglio e mi rassere i capelli dal livello dell'orecchio in giù e ci avrei un doppio taglio sfumato poi largo qua poi la riga dei capelli no quindi doppio taglio con sfumatura sotto l'orecchio in modo che ci siano capelli larghi dalla riga in giù da questa parte e dalla riga in su da quest'altra e poi a livello dell'orecchio dalle due parti che si è arrasata a cuoio la testa però che ci siano capelli sfumati e larghi anche all'altezza delle tempi e no quindi poi mi dici c'è renzo montagnani everything me l'hai detto questo pomeriggio o questa sera no non so mi sembra sì questo pomeriggio sto modificando un nuovo tema te lo dirò in seguito intanto attendo il video con gli argomenti detti ieri a presto beh mi sembra di aver risposto a tutti i temi a mi scuso con te renzo montagnani everything che mi dici ciao saint jean già condiviso l'audio accettabile ho dovuto chiudere gli occhi per quasi tutto il video forse perché io sono brutto mi veniva a mal di testa vedere fotogrammi lenti il video andava molto a scatti con la tua camera 1999 poi ti si è dimenticato alcune mie domande potresti fare una live al volo qui su instagram anche se non riesco guardare la diretta ho tempo di vedere il tuo video fino a 24 ore prima che instagram cancelli il video mi spiace sapendo come stanno le cose così io la prossima volta mi filmerò o col cellulare o con la filmatrice però siccome volevo fare un qualche cosa al volo per non lasciare in sospeso quelle due o tre domande spero che adesso caricando facendo il video con picasa 3 e poi editandolo che io c'è un editore di video che funziona abbastanza bene anche se io non lo so usare integralmente che l'ho scaricato non so da dove gratuitamente che si chiama vs dc video editor edizione gratuita versione 5.8 mi chiedono di effettuare il loop loop grade alla versione pro ma io sono disoccupato e non posso attualizzare la versione a proposito di questo care amiche ed amici che vedrete il mio video vi voglio chiedere gentilmente se potete naturalmente un po che mi sono perso visto che sto per raggiungere nel mio canale saint en chan quota mille iscritti e poi ci avrò dei privilegi per lo meno anche se nelle mie direte non partecipano molte persone poi me l'hanno cancellato per tre mesi la diretta però se io raggiungo mille iscritti potrò entrare nel programma per cui chi vorrà potrà a monetizzare i suoi interventi nel chat quindi da gennaio quando mi sbloccheranno le dirette se succederà io potrò potrò ricevere dei soldi per la chat quindi mi raccomando se avete degli amici voi stessi guardando questo video iscrivetevi al mio canale saint en chan perché in questo modo potrete aiutarmi adesso sto vedendo perché voglio potrete aiutarmi a avere mille iscritti a poter fare questa cosa di monetizzare monetizzare il chat diciamo così ecco per gli interventi mi pagherebbero come succede a molti che io ho visto in altri canali che pratica che pratica quando per esempio uno partecipa e vuole mettere in risalto il proprio intervento poi succede che che paga non so 50 centesimi 1 euro 2 euro e parte di quei soldi se non tutti quei soldi almeno parte di quei soldi vanno nel mio account in quattro anni mi hanno dato 150 dollari quelli di youtube adesso che stiamo già in pratica novembre e sì perché stanotte viene novembre stanno a 50 e passa di dollari 55 dollari quindi significa che nell'ultimo anno monetizzato qualcosa di più perché forse ci dovrei mettere due anni per fare 100 dollari ma è per questo che chiedo a tutte e tutti voi di invitare i vostri contatti ad iscriversi al mio canale di youtube perché in questo modo se dopo gennaio che mi sbloccano i live potrò fare dei live dove la gente per mettere in risalto le sue i suoi interventi nel chat mi darà qualche dollaro magari io raggiungerò subito i 100 dollari quindi youtube mi paga parlare di queste cose sembra un po venire venire veniale però vabbè fa niente intanto il video c'è già 18 minuti e io non voglio abusare della vostra pazienza ho risposto alle domande del nostro caro amico renzo montagnani everything di instagram eccolo qua e quindi come dire se mi piace dante alleghieri certo è molto interessante è anche molto difficile da leggere ma la poesia non è stato il mio forte comunque preferisco charles baudelaire soprattutto quest'opera i fiori del male una raccolta di poemi fantastici e in genere comunque da giovane leggevo saggi saggistica di antropologia etnologia storia e gitologia archeologia sulle tradizioni orientali l'esoterismo e le mire zolla di non eccetera egliade o egliade perché non so come si pronuncia e romeno la poesia mi ha sempre affascinato di meno comunque ecco in questi giorni stavo rileggendo dante alighieri infatti da qualche parte dovrei trovare un'edizione che ciò dai tempi della scuola della divina commedia tascabile della newton però non ve ne voglio parlare ancora adesso grazie renzo montagnani everything per avermi fatto una domanda di letteratura ne parlerò in un altro momento sto rileggendo la divina commedia ma come esercizio intellettuale allo stesso modo in cui sto rileggendo i promessi sposi adesso mi preme vedere come viene sempre filmandomi con questa chiavica di web camera del 1999 però primo attraverso picasa e e secondo editando il video in full hd con il programma sdc video editor perché gli da un formato più leggero che il l'editore di video del sistema operativo windows 7 e lo metto in full hd perché se gli do 4k peserà una cifra sono già 22 minuti quasi e quindi nomi di vulgo nomi di lungo oltre poi scusate se ho guardato poco in camera ma è che avendo qua a disposizione la finestrella non è quando ti filmi con la filmatrice o il cellulare che metti lì che allora guardi l'obiettivo qui avendo a disposizione lo schermo guarda finisce per guardare lo schermo e invece quelli che ti guardano da casa dicono ma a lui non gliene frega di parlarci e invece non è vero non è così comunque mi sembra che anche l'editore aveva la possibilità di infatti adesso sto guardando lo schermo di catturare video e non so se funzioni meglio il vs dc o il picasso perché veramente adesso vedo che che ho attivato la modalità registrare però non si vede niente con il vs dc forse ho fatto bene o forse perché è occupato dalla dall'applicazione picasso che non riceve l'immagine comunque non so dopo dopo farò un test e vi saprò dire se la prossima volta magari registrerò il video con il vs dc perché se posso dargli comunque un buon formato per caricarlo poi full hd se non mi filmo col cellulare basta ho deciso allora vi ringrazio cari amiche ed amici di avermi seguito mi raccomando se avete la possibilità adesso poiché sono quasi le 21 vi lascio se avete la possibilità di far iscrivere amiche ed amici e anche se vi potete scrivere voi stessi che guardate magari per la prima volta un video mio questo al mio canale io ho 968 iscritti vorrei arrivare al più presto ad averne mille almeno così perché no allora vi ringrazio di tutto vi saluto senza più annoiarvi tergiversando grazie renzo montagnani everything di seguirmi caro amico di instagram grazie alessandro arcangeli grazie antonio trotta sì mi sembra che ti chiami così c'è una memoria io impressionante con molti hanno poca memoria io invece c'è molta memoria caro caro carrà hamlet a bloom cara amica homleta bloom ti saluto anche a te cara martha uribe ciao alessandro arcangeli ciao silvia evangelista haoh poi antonio trotta ti saluto anche a te e poi chi ho salutare giuseppe simone ciao giuseppe simone non so ho voluto partecipare ai chat dei tuoi ultimi video live streaming ma non sono riuscito a entrare non so la ragione caro giuseppe simone per la quale non sono riuscito ad entrare al chat dei tuoi live però vabbè io ti seguo sempre giuseppe simone fammi sapere per quale ragione non posso chattare nei tuoi nei tuoi live non posso dire proprio che senza chattare nei tuoi live non vivo perché comunque i tuoi live li seguo lo stesso gli do like io ecco credo reputo la cosa a un inconveniente tecnico poi se anche così non fosse non sono rancorosso però sappi che io ti seguo ti metto like ai tuoi video e fammi sapere eventualmente non so per quale ragione io non posso partecipare a cercare di contribuire con i miei interventi nei tuoi live poi se i miei interventi non ti piacciono qual è la ragione tu sei il padrone del tuo canale io continuerò a seguire i tuoi live e ammettere mi piace spetta te poi decidere di farmi partecipare al chat o no io fra l'altro non sempre posso chattare dipende quello che faccio nel giorno quindi ho salutato anche giuseppe simone salve a tutte e tutti quelli che già mi seguono ma non sono iscritti al canale e non mi commentano i video vi pregherei di farlo di mettere le like e di condividere i miei video soprattutto di iscriversi al canale mi aiutereste a raggiungere le mille visioni mille iscrizioni io che già ne ho 967 grazie comunque della cortesia di seguirmi buon halloween a tutti buonanotte e ciao dal vostro santen chan